Ok, siamo sul ponte, la ripresa sarà quella che sarà, porca troia, è vagamente altino, no 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 no, sta già registrando, questa è l'altezza da cui siamo, quella che vedete davanti è la capona di Christian, mi sto per cagare in mano, sappiatelo, anche se il ponte del Nepal era molto più pericoloso, però anche questo fa una discreta paurazza, guardate che panorama intanto, Siamo praticamente nel sito dove Fion ha le sue isole di ferro, e questo è il ponte, che proverò a filmare con una mano sola, Io ti consiglio di mettere via, mentre lo sto facendo, ok direi che magari la smetto qua, perché mi sto cagando addosso, e filmiamo solo un attimino Christian mentre inizia.